Musica Secondo i dati elaborati da Union Camera e Info Camera sulla base del registro delle imprese delle camere di commercio, il 22% delle imprese commerciali in Italia è un bulante, con oltre 183.000 operatori, di cui più della metà composta da stranieri. Questo tipo di attività si conferma come canale di vendita complementare sia al dettaglio in sede fissa che alla grande distribuzione. Il 95%, 175.000, è costituito da micro-imprese individuali. Inoltre la concentrazione di questo tipo di imprese si accompagna spesso alla prevalenza di una specifica nazionalità degli imprenditori. Per esempio a Caserta il 68,2% è originario del Senegal, a Reggio Calabria il 65,1% viene dal Marocco e a Castelvolturno il 58,1% ha origini nigeriane. Sono circa 70.000 le imprese attive in Italia nei settori sociali, crescono del 3% in un anno e del 19% in 5. Prima è Roma con 6.229 imprese sociali e 87.000 addetti, seguita da Milano 5.000 imprese e 74.000 addetti e Napoli 4.000 imprese e 31.000 addetti. I dati emergono da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Sono 12.000 quelle attive in Lombardia nel 2019 su 70.000 in Italia ed hanno lavoro a 191.000 addetti su 832.000 a livello nazionale. Con il nuovo anno accademico alle porte, per molti studenti fuori sede non è solo il tempo di preparare la valigia, ma è anche e soprattutto tempo di fare i conti con la ricerca e i costi delle stanze in affitto. Milano si conferma la città più cara in cui vivere da fuori sede. Per una Camera nel capoluogo Meneghino si chiedono mediamente 573 euro. Prezzo aumentato del 6% rispetto al 2018, a fronte di una domanda che continua a crescere, più 5% su base annua. Il secondo posto è ormai a pari merito. Dopo il boom dei prezzi dell'ultimo anno, Bologna ha praticamente raggiunto i costi di Roma. Nelle due città, per affittare una singola, si spendono rispettivamente 447 e 448 euro al mese. La produzione del giacimento Eni di Zor ha raggiunto oltre 2,7 miliardi di piedi cubi di gas al giorno, circa 5 mesi in anticipo rispetto al piano di sviluppo. Questo risultato è stato raggiunto a seguito del completamento di tutte le otto unità di trattamento a terra e di tutti i sistemi di produzione dello zolfo ad agosto, l'avvio della produzione di due pozze nel culmine meridionale del giacimento e l'avvio del secondo gasdotto che collega gli impianti di produzione sottomarini all'impianto di trattamento a terra.